Mezzi a secco di carburante, questo è il motivo che ha scatenato la nuova emergenza rifiuti in città. Il distributore che fino ad oggi aveva garantito il rifornimento di gasolio e che vanta un credito dell'azienda Eurocop, non è più disposto a concedere altro carburante. Un problema che i curatori fallimentari subentrati dopo l'inchiesta della magistratura Bissinidem, che ha coinvolto anche i vertici dell'Eurocop, stanno tentando di risolvere in queste ore, consapevoli che bisogna versare la cifra necessaria per consentire ai mezzi di ripartire con la raccolta. In assenza degli autocompattatori, i neturbini stanno adoperando mezzi piccoli, in grado di ripulire solo pochi quartieri della città. Gli altri operai sono costretti a restare a braccia concerte. Loro che da mesi non dormono sonni tranquilli, per via del nuovo appalto giudicato dalla Progetto Ambiente, che subentrerà dal primo luglio e che non riuscirebbe a garantire lavoro per tutti e 89 gli operai. La questione sarà affrontata giovedì prossimo, nel corso dell'ennesimo vertice in prefettura. Il massimo rappresentante istituzionale del governo sa bene che dovrà occuparsi non solo dell'emergenza lavorativa, ma anche della nuova emergenza ambientale scoppiata a Vibo Valencia, e che con l'estate alle porte rischia di trasformarsi in una bomba ecologica.